Musica Amiche e amici di Rossini TV Siamo qui anche questa sera, venerdì Siamo pronti per una puntata davvero straordinaria, davvero speciale Sono accompagnato dal mio compagno di avventura in questa serata, Paolo Ciao a tutti E ovviamente dai due super ospiti della serata Alla mia sinistra Maurizio Bertuccioli Buonasera a tutti, grazie dell'invito E il signor Riccardo Tondi Che, permettetemi questa cosa, è un campione d'Italia Come si vede da questa bellissima immagine Che lo ritrae con questa scritta Che credo che qualunque sportivo vorrebbe avere Riccardo, campione d'Italia Bellissimo, sì Buonasera a tutti Bellissima, bellissima esperienza È il primo campione d'Italia che abbiamo come ospite? No, a dire il vero abbiamo ospitato Tonin Andel Il campione d'Italia con l'Ital Service Riccardo Tondi è campione d'Italia Con la squadra del Montelabate degli Amputati Giusto? Nuova Montelabate Amputati Sì, nata l'anno scorso, un annetto fa Insieme al campionato Il campionato con il primo anno Quindi siamo per la prima volta i primi campioni d'Italia Abbiamo quattro squadre dove ci siamo un po' divisi La nazionale, un po' abbiamo trovato dei nuovi giocatori Abbiamo Genova, Lecce, Vicenza e la nuova Montelabate Amputati Fantastico, quindi è un titolo straordinario Anche perché è un titolo che testimonia la grandissima volontà Di questi ragazzi che nello sport danno tutto E ottengono risultati incredibili Sì, 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 ma lì è tutta passione Quindi difficoltà, quando vedi c'è la passione Ce ne sono poche Certo Cioè non te ne accorgi Chiaro, si supera tutto Maurizio invece tu Qui facciamo vedere questo libro Perché tu hai una lunga biografia No, giustamente Sì, guarda Sei un famoso autore No, non è vero No, no In realtà sei un famoso regista No, non è neanche vero questo Non è neanche vero Néanche quello Il Basking di cui parleremo È un film turco del 2016 Che non consigliamo a nessuno di guardare Questo film lo scopro oggi con te L'hai scoperto oggi In realtà tu sei un giocatore di Basking Che è un'altra cosa Sì Questo gioco che è basket inclusivo Perché si gioca tipo il Playmobil Sì, su quattro canestri Ah, non così quindi No Non proprio così Non proprio Non proprio così Su quattro canestri giochiamo Con giocatori come questi? Con giocatori che mi somigliano Abbastanza Un pochino come questi O forse come questi Sì, ecco Questo è più realistico Questo è più realistico Questo assomiglia Questo assomiglia Ma senti Come si svolge questo gioco? Praticamente giochiamo su quattro canestri Sono misti disabili e abili Diciamo possono giocare tutti Dalla disabilità più grave A quelli più bravi in basket Così niente Praticamente giochiamo in campo I pivot tipo il ruolo mio Il ruolo due Che mi portano il pallone Io sto nella mia area di canestro E poi se vado a canestro Bene, vale il punto E tu sei un infallibile cecchino Ma senti Tornando alla foto di prima Spiegaci quelle gomme Quelle ruote Esatto No, perché quelle ruote Sembrano più adatte al film Quelli lì Diciamo È un accessorio Che ti vendono come l'auto Ah, ecco Ho capito Quindi Che ci sono lì E te le fanno pagare Diciamo Non sono colori sociali No, no È una personalizzazione Come il casco dei motociclisti O qualcosa del genere Sì, è già lì Come la macchina Quando la compri Che c'ha L'optional L'optional Ecco, sì Senti Ti abbiamo visto Noi l'anno scorso Circa un anno e mezzo fa Con la tua società Che è questa società Che è nascosta Nascosta dal tuo piumino Sì Esatto ASD La casa di Oz Che è nata un paio d'anni fa Che tra le varie attività Fa psicomotoricità Fa basking Quello che faccio io E altre attività Diciamo In quell'occasione Noi abbiamo conosciuto Riccardo Abbiamo proprio conosciuto Riccardo Perché un anno e mezzo fa Abbiamo seguito Questi giochi di Montecchio Abbiamo peraltro visto La vostra partita Che ci siamo divertiti È stata una partita Integrata Esatto Integrata Mi ricordo Una manifestazione bellissima Paolo E da lì abbiamo cominciato Fra l'altro questo Lungo rapporto Con il Nazionale Calcio Amputati Soprattutto la vostra Nostra sezione Pesarese Dove ci sei tu Luigi Lollo Con diverse ospitate Prima da noi Poi abbiamo fatto Una cosa insieme Ecco Abbiamo fatto una cosa insieme Che adesso vediamo Perché questo è stato Un appuntamento straordinario Riccardo Sì sì Bello Dai ci siamo divertiti Abbiamo fatto Abbiamo fatto vedere Come si gioca Perché Sì sicuramente Sì ma a noi è molto facile Farci vedere come si gioca No va bene Lollo Lollo sta diventando Il numero uno Secondo me sta diventando Il numero uno in Italia Sono in due in tre Che si giocano Che si gioca in un buon livello E lui comincia a essere Nel top Ho letto Recentemente Un'intervista A Lollo Sul Mi pare Sul Carlino Scurri Adriatico Non mi ricordo Dove lui Effettivamente Descriveva la sua attività Come se per lui Fosse la cosa più naturale Di questo mondo Beh io Ti dico la sincera verità Lo conosco Da quando aveva otto anni Adesso ne ha sedici Quindi Comunque sia L'ho visto crescere Un fratellino Dai Un fratellino E tra tutto Va bene a scuola È bravo E ha fatto il record del mondo Dei 400 metri Di corsa È campione d'Italia È campione d'Italia Grazie a lui Che ha fatto lui il rigore Quindi Lui ha tirato il rigore A un minuto dalla fine Perché poi è stata Una bella vicenda La finale Nel senso che L'ultimi due minuti Abbiamo avuto un rigore a favore E all'ultimo secondo Un rigore contro Quindi lui Sangue freddo Ah io Mi fido di te Un altro No Io per niente Quindi Quindi lui Testa bassa Si è messo lì Ha tirato questo rigore Favoloso E di là D'altro canto Il nostro portiere Che è il numero uno Anche lui L'ha parato L'ha parato Quindi da lì Mi ha vinto il campionato E Lollo Comunque sia Secondo me È il nostro futuro Certo Beh sicuramente Lollo È un talento L'abbiamo visto sul campo Mentre tu invece Riccardo Con Questa finale Hai deciso di Appendere stampelle a chiodo Appendere stampelle Scarpini E le cose Dal chiodo Sì 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 Come lo vivi Questo Distacco Dal Allora Dal calcio Angoristico Un po' come Buffon Esatto Siamo in un periodo In cui i quarantenni Fanno fatica A lasciare A lasciare L'attività È stata È stata una scelta Un po' Pensata Cioè C'ho pensato Un anno Da dopo il mondiale Che penso E mi è detto Su questa cosa Però Allora è vero Non sentire l'odore Quando entri Negli spogliettoi Nel campo Non sentire l'odore Dell'erba E tutto Un pochino Manca Manca anche Andare in giro A viaggiare Non sentire l'odore Dell'erba C'ha un No vabbè È un po' 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 Quando entra in un campo Non pensa Diciamo al terreno di gioco Calcisticamente parlando Esatto Un po' manca Però vi dico che Comunque sia Ero arrivato a un punto Dove abbiamo Ho fatto tanti sacrifici Ho dato tanto Ho avuto molto di più Però ho cominciato a avere dei problemi a una spalla Perché correre con le stampelle Poi comunque sia Un po' di cosine te le porti dietro E adesso sto rimettendo a posto un po' la spalla Comincio a fare un po' più di fatica Poi correre contro i ragazzini dai 16 ai 25 anni Contro i vari lollo Vero è un problema Contro i vari lollo È un problema Sì 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 Maurizio invece qui in questa foto ti vediamo Vediamo i vostri grandi avversari Perché Riccardo parla di vittoria A quanto pare sembra che questa sia una squadra quasi imbattibile Nel baschi Sì sì La lupo è la numero uno per ora Imbattibile Squadra pesarese Pesarese Anni di esperienza Contro i nostri due anni loro decennali Però qui siete con una bella coppa Quindi vuol dire che qualcosa vincete anche voi Qui il primo anno O l'avete comprata No 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 E per questo sei ovviamente diventato capitano Mi hanno nominato capitano Mi hanno nominato a mia insaputa capitano Ma forse più per l'età che sono più a piano che per i meriti Ecco però prendiamo questo onore Questo titolo Questo titolo Il baschi Vedo che qui abbiamo un calendario per il campionato Che è iniziato È iniziato a novembre Finirà ad aprile Esatto Ci saranno vari incontri ogni 15, 2, 3 settimane Diciamo ogni quindicinale Ogni quindicinale Noi avremo un appuntamento importante Mi pare a fine gennaio A gennaio Sì A Montecchio A Montecchio Sì Quando si giocherà a Montecchio Sì Quando giochiamo in casa In casa Siete invitati Esatto Mi pare che sia il 26 di gennaio Noi tenteremo di esserci chiaramente Per curiosità mia Di quante squadre è composto il campionato? Siamo sei squadre C'è Fano, Pesaro, Montecchio, Urbagna E il bis sempre di Pesaro Quindi dovremmo essere sei squadre E una volta superato diciamo questo girone provinciale C'è un proseguo? Solo chi vince Tipo l'anno scorso La Lupo è andata a Savona A fare i nazionali Ok Così Perché una volta ogni tot anni Adesso non mi ricordo Perché noi E' iniziato da pochissimo Sì Così E chi vince C'ha ecco Questa possibilità Di andare a fare il nazionale Un torneo Così E qui vediamo un'altra foto Con un'altra coppa Torniamo indietro con Riccardo E vedete Alla sinistra c'è Lollo Questo fenomeno di cui parlavamo E a destra c'è Gigi E a destra c'è Gigi Che sono peraltro i tre Che hanno giocato con noi quella sera Esatto Montelabate, Pesaro e Fano Montelabate, Pesaro e Fano Quindi a rappresentare proprio la provincia Il triangolo Il triangolo d'oro E questa è un'altra immagine Sempre della squadra Della nazionale Qui eravamo Sei nazioni a Varsavia A Varsavia Ok Sì Sì Con la vittoria del campionato Ci siamo qualificati Adesso i ragazzi Il prossimo anno Andranno a fare la Champions League Quindi tutti i vincitori Del campionato In Europa Germania Turchia Georgia Spagna Francia Andranno a giocare tutti insieme In un giro di 3-4 giorni Si svolgono sempre Dove? Sì Sto decidendo Forse parlavano di farlo anche in Italia Ok E in Italia potrebbe essere quindi anche dalle nostre parti oppure no? Chi lo sa? Perché non il movimento è positivo Nello stesso periodo ci sono i campionati di atletica a Grosseto Cioè un Grand Prix di atletica a Grosseto Quindi la federazione è sempre la stessa Cioè la FISPES Federazione Sport Paralimpici Paralimpici Sperimentali Ed essendo sempre la stessa Sono due cose che si accavallano Non devono capire se riescono a farle tutte e due O tutte e due in uno stesso posto O una staccata all'altra Ok In lista dovrebbe esserci anche Londra Se non mi ricordo male E Istanbul Solo che Istanbul con infatti che ci sono Un pochino Serie un po' più complicata Londra con la Brexit Ma anche in questa In Istanbul tra l'altro la Turchia ha una grossa tradizione nel calcio amputati Sono molto forti 500 atleti 500 atleti sono Loro sono campioni d'Europa Dei vice campioni del mondo Sono arrivati secondi La finale della Coppa Europea Che era la di Istanbul Eravamo al Besiktas Stadium con 42 mila persone Ricordi filmati Impressionante Che effetto fa a giocare davanti a 42 mila persone? Io ero seduto nella tribuna Perché guardavamo la finale Che era Turchia e Inghilterra Però vedere tutta questa gente per una partita nostra Perché è una partita che comunque si sentiamo col cuore nostra E tutti che tifavano Ed è stata una partita emozionantissima Solo vederla da seduto in tribuna Senti ma guardando questa immagine Riccardo Mi pare di ricordare che Quando la palla dovesse toccare la stampella E' equiparato al fallo di mano Quindi la difficoltà raddoppia Dovete fare tutto con una gamba Allora già correre Stare in equilibrio E calciare con una gamba sola Sulle stampelle Già quello è molto faticoso Cercare di evitare Di prendere la palla In realtà poi quello è un movimento naturale Che viene naturale Nel senso che tu vai sempre A cercare il pallone con la gamba che tu hai Quindi cosa succede? Che le stampelle comunque sia Sono del prolungamento delle braccia Se le tieni leggermente distante Dalla tua gamba In maniera tale da non far Da non interferire Certo Esatto Quindi Però succede anche questo Perché ci hanno fischiato un rigore contro Per questo Per questo motivo qui Quindi E lì non c'è stato il VAR E lì non c'è il VAR Volontarietà A quel punto lì O sei delict Non te lo fischio O ti salvi O ti salvi Maurizio Questa foto invece L'abbiamo selezionata Per un motivo preciso Soprattutto io e Paolo Perché questa è la manifestazione Che avete fatto l'estate scorsa A Cristo Re Sì Il torneo di Cristo Re Il torneo di Cristo Re E io e Paolo Siamo vissuti Si può dire a Cristo Re Era il nostro campetto Cresciuti Cresciuti Vissuti Cresciuti E giocati Perché abbiamo sempre giocato Proprio su quel terreno lì Diciamo che ce ne portiamo dietro Anche i danni permanenti Di aver giocato Non so quanti anni sul cemento Sì Mal di schiena Questa è stata una manifestazione bellissima Sono venuti da tutta Italia Io mi ricordo C'era un'aria di festa E una condivisione Sì A parte il nostro torneo interno marchigiano Ogni tanto facciamo queste cose Durante l'anno Degli incontri Extra Diciamo tornei Deve avere propri raduni Sì Sì Siamo andati anche Che poco Abbiamo giocato con la Toscana Che sono venuti qua In gemellaggio Diciamo A fare una partita con noi Ci hanno invitato da loro Comunque ecco A parte il nostro Ecco Ci sono ecco Queste realtà A dimostrazione del grande movimento E poi questo invece Appunto Quando ti abbiamo conosciuto Noi direi vero Ti avevamo visto in questa veste Però Hai preferito cambiare sport Questo qui Era sempre con i giochi tra quartieri Il primo anno Che sono rinati i giochi tra quartieri Sempre con la casa di Oz Che stava nascendo Anche l'associazione C'era questo gioco inclusivo Oltre il basking L'ho provato Interessante E bello Solo che alla fine Devi fare comunque Delle scelte di vita E quindi hai preferito Il basking Anche perché come Cupido Ti dico Le frecce Non è che andavano sempre In centro Te l'avevo detto Potevi provare con le freccette Andare in qualche pub Con le freccette Mi do al bullying Allora le bocce Dopo vediamo Oppure sei uno come Lollo Di cui parlavamo prima Che riesce ad essere contemporaneamente Una stella nei 400 E una stella Nella nazionale di calcio Un po' come quello Che ha provato a fare Bolt Esatto Dopo che ha fatto tutti i record A 100 metri Ha voluto anche giocare Nel Manchester United Ma ho detto che Sesso proviamo a fare solo Il record dei canestri Dopo vediamo Ma invece in questa foto Scusa Chi volevi imitare? Queste qui sono quelle foto Che te alla sera Non sai cosa fare Passi così Un po' di tempo al computer Un po' di tempo al computer Leggereste varie Tra un problema e l'altro Fai queste stupidate No perché sono belline Come vedete Ce n'è tutta una serie Io ne ho selezionate Solo alcune Grazie Esatto così I migliori I migliori Io ti inviterei a fermarti Vedo che Maurizio Anche mi invita a fermarmi E' una lama a doppio taglio Sto Facebook Ok Ma quando si parla No di disabilità Noi adesso abbiamo sempre Tenuti dei toni leggeri Dei toni simpatici Che in fondo è quello Che vogliamo Perché è parlare E parlare di vita Di cose che fanno parte Della vita normale Di tutti i giorni Non sempre è così Perché vedete Non è che disabile Vuol dire supereroe Anzi Anche se ci si veste Anche se ci si mette In un certo modo Ragazzi I problemi ci sono I problemi ci sono Perché la vita Di una persona Che ha abilità diverse Rispetto alla stragrande Maggioranza delle altre È il fatto di percorsi e ostacoli E quindi Abbiamo avuto l'esempio ieri No Maurizio Quando proprio In una situazione Estremamente banale Io non mi rendevo conto Del fatto che per te Alcune cose Fossero più difficili Che per me Quindi immaginate Quanto è Faticoso Fare una linea Mentre per noi Fare una linea retta Significa fare una linea retta Non sempre Per te Sì sì È vero Come esci di casa Ti trovi Puntualmente l'ostacolo O in fondo lo scivolo O nel parcheggio Che comunque Anche i parcheggi Non sempre sono A persona Diciamo Quello che è adatto a me Magari un altro disabile Non è adatto Perché io magari guido E scendo sulla sinistra Un altro del passeggero Scende sulla destra Ti trovi il pannello pubblicitario Ti trovi la fioriera Ti trovi il motorino Ti trovi la bicicletta Così E comunque anche Se il parcheggio è libero Non sempre è utilizzabile È fuori Infatti Una cosa che ci diciamo sempre O c'è il marciapiede Che non è adatto Infatti Io a proposito di questo Ti volevo chiedere una cosa Sia a te che a Riccardo Che vivete Disabilità molto diverse Ovviamente Poi credo che Tu ci sia nato Riccardo Viene da un trauma Quindi è una questione diversa Nel tempo Il registro linguistico Si è molto adeguato Una volta si diceva Andicappato Quello che si diceva Prima di handicappato Non lo diciamo nemmeno Che oggi è abbastanza irripetibile Poi è diventato portatore di handicap Oggi è diversamente abile A questo adeguamento Di sensibilità comunicativa Riscontrate anche Un adeguamento In tutto quello che vi circonda Cioè a livello di persone Di istituzioni O ancora Abbiamo tanto C'è tanto da lavorare Tanto da fare Cambia solo Il nome Ma alla fine Cambia poco Ecco diciamo Ti chiamano In dieci modi diversi Ma alla fine il problema Più delle volte Che io credo che comunque sia importante Adeguare anche la parte La parte comunicativa Perché una facciata Poi ci deve essere dietro la sostanza Ovviamente Perché è come dire Diversamente biondo Diversamente magro Diversamente alto Voglio dire È una persona Con una difficoltà Diversa Ecco Da un altro Ecco diciamo E io credo che C'è anche da dire Che comunque sia In questi anni A parte il nome Che stiamo dando A questo problema E si sta allargando Un pochino Anche la mentalità Della gente Siamo un po' più presenti Grazie allo sport Grazie A dei personaggi Magari come Zanardi Come Bebevio Che comunque sia Per carità Sono dei vincenti E qui la vediamo Però Però sono loro Che stanno dando Voce A quello che siamo noi Dopodvero Magari io Non vi incontrerò Magari Faccio dello sport Faccio delle cose Faccio Tutto a modo mio Come tu fai a modo mio Tu fai loro Fanno a modo loro E vincendo Portando avanti Questo Non questo Tanto la disabilità Ma questo movimento Sì sì Che è proprio Un movimento Io credo che sia Un movimento Non solo un movimento Da un punto di vista Pragmatico Ma sia un movimento Anche interiore Cioè un movimento Proprio che ti porta Come in questa immagine Che ha selezionato Paolo Che secondo noi È molto significativa Che dice Mio figlio Si concentra sempre E solo Su quello che può fare E non su quello Che non può Ecco io credo Che sia fondamentale No Maurizio Ne parlavamo Ne parlavamo proprio ieri Sì sì Capito anche del punteggio Della competizione Tu appunto come diceva Tu appunto come diceva Paolo Ti sei trovato in una situazione Diversa nel corso Della tua vita Quindi probabilmente Da questo punto di vista Forse hai Ti sei trasformato Giusto hai trasformato Io c'è da dire Che ho avuto un incidente Quando avevo 32 anni Esatto Mia moglie era incinta Di tre mesi Quindi comunque sia Di affettività Ne avevamo tanta in arrivo Esatto Ed è stato proprio così Anche se magari Nel primo periodo Ci siamo un pochino Dimenticati Della gravidanza Per superare Certo Il mio incidente La mia amputazione Perché poi dopo Ero costretto anch'io Su una sedia Per pochi mesi Fortunatamente Perché avevo rotto Anche il piede destro Anche il piede destro E poi piano piano Ci siamo goduti Diciamo la nostra gravidanza E la nascita di Giacomino Certo Invece Maurizio Magari a te È mai successo Di avere una fisioterapista Tipo Monica Bellucci Purtroppo no Perché non sono scamarcio Anche perché Per il semplice motivo Che non sei scamarcio No Sono un po' poscai Molto marcio Allora No questo se vi ricordate È un film Molto Molto carino Di qualche anno fa La mia fisioterapia Mi ricordo soprattutto Quella scena di quel film È vero Ti ricordi quella scena Vero La mia fisioterapia Finisce con i miei 18 anni Quindi Ah ecco quindi Niente a che vedere con questo Niente a che vedere con questo Insomma Purtroppo no Quindi niente a che vedere con questo Ok Però è una problematica No? Sì È una problematica Nel senso O quantomeno è una questione Su cui riflette Sì L'affettività Anche Proporsi verso l'altro sesso Diciamo Anche perché noi siamo visti No? Con delle difficoltà Quindi facciamo fatica a farci conoscere Magari una volta che mi conoscono Dicono sei una bella persona Ma non è che si girano a guardarmi Quando passo Certo Per la strada Quindi fatichiamo due Tre volte in più di una persona Diciamo Normodotata Per farsi conoscere veramente come siamo Poi al di fuori dell'handicap Ecco E pensate che ieri Maurizio mi diceva Chiacchierando Che lui in certe occasioni Ha frequentato posti dove ha visto persone No? Con problemi o comunque simili Sì E tu cosa dicevi in conclusione? Questo per farvi capire lo spessore di Maurizio Sì No Io ti dicevo Io sono andato per parecchi anni all'Orito L'ho frequentato ancora I pellegrinaggi così Ma quando vedi certe realtà Dico Ok Pensa a loro Io torno a casa come sono Cioè Esatto Esatto Pensa Quindi ritenersi praticamente Sì Io mi ritengo tra virgolette Fortunato Davanti ad altre realtà Davanti ad altre situazioni Sì Ad altre situazioni Quindi rendiamoci conto di questo messaggio Che è un messaggio di un'importanza incredibile E io credo che anche Pensando a Riccardo Credo che siano cose A cui bisognerebbe pensare sempre Perché ragazzi la vita è questa No? Beh basta un attimo Tanto io Dopo 400 chilometri A due chilometri da casa Ero arrivato Quindi Teniamoci stretto quello che abbiamo E non lamentiamoci delle solite banalità Bravi È un po' il contrattare di quel messaggio Che leggevamo prima nella fotografia Mi concentro solo su quello che posso fare Non su quello che non posso fare E il messaggio è Di godersi quello che si ha Senza invidiare quello che non si ha Certo Poi sul messaggio della comunicazione legato anche alla disabilità Chiudiamo con questa immagine Questa immagine che è il cartellone di un film che è uscito qualche anno fa Uno dei film più belli degli ultimi anni Che è quasi amici Dove c'è questo rapporto straordinario fra il disabile e chi si prende cura di lui Perché credo che si possano veramente creare dei rapporti importanti profondi in queste situazioni Sì, sì, l'amicizia è molto importante in questo caso Ecco, diciamo, nella disabilità Nel interagire con le persone Uscire di casa Certo Frequentare ambienti Frequentare gente Frequentare la vita Sì, vivere Vivere, in poche parole Vivere, sì Riccardo, il tuo immediato futuro quindi nello sport? Il mio immediato futuro? Bicicletta Tombola No, tombola Tombola giù Adesso comincia, manca qualcosa Esatto No, in realtà ho comprato una bicicletta Quindi adesso mi sto dando un po' a una mountain bike Sto facendo un pochino di Diciamo un po' più di discese Mi raccomando che è pericolosa anche la mountain bike Eh, però c'ho un po' il casco chiuso Un po' di protezione Ok Ok, quindi sei organizzato Sì, dai, diciamo così Benissimo, siamo in conclusione Ve lo dicevamo Purtroppo il tempo vola Siamo già quasi al 26esimo minuto di questa Che non è una partita ma è una bellissima chiacchierata Quindi come sempre io do la parola a Paolo Per le conclusioni saluti a fine puntata Ma le conclusioni, ovviamente, in questo refrain che ci caratterizza È che anche questa è stata una puntata diversa Non perché ospitiamo dei diversamente abili Ma perché credo che sia importante Prendersi un momento per trattare questi temi E fermarci a riflettere su questi temi E con questo, da parte mia, è una buona serata per tutti Una buona serata per tutti Mi raccomando, il like alla pagina di Essenza Giacca su Facebook Alla pagina di Rossini TV Nelle pagine frequentatissime di questi due amici ASD, la casa di Oz Esatto E la nuova Monte Labatte Amputati Perfetto, quindi vi ringraziamo ancora per averci seguito A venerdì prossimo e buona serata a tutti Ciao Ciao a tutti Buona festa Ciao